Sempre è bello vincere un derby, soprattutto per come l'abbiamo fatto e soprattutto per mio fratello Cordoba che meritava l'ultima partita con San Siro con una vittoria del genere e soprattutto che lui aveva potuto entrare, è stato molto bravo il mister. La Juve insomma vi deve un favore? No, 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 io credo che la Juve al di là della nostra vittoria con il Milan ha vinto questo campionato perché l'ha meritato una squadra che da 37 partite che non perde, io credo che bisogna fare soltanto i complimenti. C'è stato una stagione difficile per tanti motivi e speriamo di finire al meglio, manca un'ultima partita e dopo alla fine tireremo le summe. Purtroppo questa stagione è stata così, però ripeto, dopo tanti successi io credo che la prima stagione che come capitano non mi tocca alzare un trofeo con i miei compagni, credo che può capitare. E il partita con San Siro con? Io credo che ci sono tutti i presupposti, sta dimostrando di fare un grandissimo lavoro, questo lo decida la società, per noi che stiamo credo che insieme a lui finendo bene questo campionato. Ho sentito qualcuno magari della Juventus, del circuito Juve, vi ha mandato messaggini qualcuno? No, non ho sentito nessuno, però ripeto, credo che alla Juve bisogna fare i complimenti perché ha fatto un grandissimo campionato. Ma è che si metterà la terza stagione? Io l'ho detto, sono contenti loro che lo facciano pure.